Poco dopo le 21.30 di mercoledì è scoppiato un incendio in una vecchia abitazione adibita a ricovero mezzi agricoli in via Cafferri a Casalserugo in provincia di Padova. Fiamme altissime hanno divorato la struttura. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto i pompieri sono arrivati con due autopompe, due autobotti e dodici operatori dal distaccamento di Abano Terme e Padova. I vigili del fuoco hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando la propagazione all'attigua abitazione affiancata. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le complete operazioni di spegnimento e bonifica dell'edificio sono terminate nel cuore della notte.